Questa mattina in tribunale interrogatori di garanzia di tre dei quattro arrestati che attualmente si trovano ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della procura di Pescara su autoriciclaggio, bancarotta fraudolenta e presunte infiltrazioni nella trattativa per la vendita del ristorante Le Terrazze. Davanti alla giudice per le indagini preliminari, Francesco Marino, la procuratore aggiunto Anna Rita Mantini e il pubblico ministero Luca Sciarretta in due hanno deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Sono Anna Paola Cavaliere, che secondo l'accusa sarebbe prestanome della società riconducibile, l'imprenditore napoletano Pasquale Garofalo, recluso nel carcere a San Donato a Pescara e la contabile Enzo Mazzocchetti. L'avvocato Claudia Rincecco, legale difensore di Anna Paola Cavaliere, all'uscita dall'aula ha dichiarato ai giornalisti che avremo molto da chiarire di questa vicenda. Abbiamo letto parecchio degli otto faldoni della procura, ma dovremmo leggere ancora tanto delle 14.000 pagine prodotte dai magistrati. Nelle prossime occasioni avremo modo di delineare il quadro riguardo alla nostra assistita. Un semplice no comment invece da parte di Alessandro Cavaliere, avvocato di Enzo Mazzocchetti. Ha deciso invece di rispondere alle domande dei magistrati Laika D'Agostino, braccio destro di Garofalo, assistita dall'avvocato Andrea Di Luzio. In particolare ha fornito elementi riguardo al suo rapporto di lavoro con Garofalo, ai contatti con gli ex gestori del ristorante, la famiglia di Natale, alle società facenti capo a Garofalo, ma anche alle vicende di un'altra inchiesta della procura di Milano che ha visto coinvolto l'imprenditore napoletano. L'obiettivo della pubblica accusa è quello di raccogliere ulteriori informazioni riguardo a ipotesi come l'autoriciclaggio e la bancarotta fraudolenta, ma anche a presunti legami di Garofalo con la criminalità organizzata, in particolare la Camorra. Legami peraltro seccamente smentiti nell'interrogatorio in carcere di mercoledì scorso, come ha ribadito questa mattina il solegale Antonio Valentini presente in tribunale a Pescara.